Paolo Bartolomia è stata la prima firma di un nuovo giocatore del nuovo corso del Teramo, il corso della Serie B, a distanza di un mese da quella firma, quali sono le sensazioni? Ho scelto subito Teramo, anche se avevo altre richieste, però mi è garbiato proprio l'ambiente, poi sono stato a Ponte Terra l'anno dopo la promozione e quindi anche qui ho scelto subito questa cosa perché dove c'è euforia secondo me si può far bene, poi il direttore, il mister mi sono garbati e quindi ho scelto subito qua per questi motivi. Sei un giocatore di centrocampo, una mezzala che però si è adattato anche a giocare davanti alla difesa? Niente, io nasco come mezzala però ho fatto anche il vertice basso da gennaio e quindi posso fare tutti e due i ruoli e ora vediamo il mister come mi metterà in campo. Senti, ci pare che tu abbia un gran tiro dalla distanza, sei pronto a scoccarne un bel po'? Sì, speriamo che come in questi ultimi anni, sì, calcio bene, forte, però pochi vanno dentro, speriamo che quest'anno qualche due non più vada dentro, dai. Senti, una squadra che comunque conosci, magari quei giocatori con cui hai giocato contro, non so se dei nuovi conosci già qualcun altro. No, abbiamo sempre giocato contro e quindi li conosco un po' così da avversari, però mi sembra un ottimo gruppo, poi ragazzi tutti giovani e voglia di emergere, insomma. Secondo me è un mix importante questo qua. Tu sicuramente avrai sentito parlare di quello che è successo, l'inchiesta, eccetera, è il momento magari questo di essere concentrati sul campo e sarà questo il vostro intento? Ma noi non ci pensiamo nemmeno, pensiamo solo che dobbiamo fare il campionato di Serie B, poi quello che verrà fuori si vedrà, però penso che non ci saranno problemi. Pronto al debutto? Sì, vedo l'ora.